Buonasera a tutti ragazzi, anzi buon pomeriggio e ben ritrovati dal vostro bomber nero azzurro è finita a Cremona tra Cremonese e Pisa, 2-1 per la Cremonese bravo l'arbitro ragazzi da oggi in Serie B è concesso giocare a Karate fare kickbox o qualche altro genere di sport che non sia il pallone c'era innanzitutto il rosso da fallo da ultimo uomo per il portiere della Cremonese e in quel fallo il calcio di rigore grosso come tutto il mio condominio, il palazzo qua non dato guardaline a massimo saranno state di distanza tra guardaline e l'azione che è qui qui c'è guardaline, facciamo questa è l'azione che cazzo ti ci veda? come fai a non vedere che quello rigore con il portiere della Cremonese che va a colpire Vido sulla parte sotto la costola qui tra l'anca e le costole GG 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 per questo arbitro di merda che ha rovinato una partita perché così rovina una partita ragazzi c'è su un episodio netto del genere tu rovini una partita ritmo della partita bello intenso da parte di tutte e due le squadre un po' più noi io posso dire per quel che ho visto io dico che il Pisa a gioco ha giocato meglio della Cremonese ha sprecato di più perché non c'è stata partita poi dopo nel secondo tempo nel secondo tempo Cremonese con 5-6 pullman dietro bravi se vi piace giocare così a pallone bravi e Pisa che attaccava 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 quelle poche volte che riusciva a tirare tirava male non era aria non era aria meno male che ha segnato Vido aveva accorciato le distanze ci aveva dato un po' di speranza ma grazie all'albitro questa speranza è andata a farsi fottere è andata a farsi benedire questa fottuta speranza adesso avremo altre gare impegnative a partire da martedì martedì se non mi sbaglio con la salernitana voglio proprio un attimo vedere eh sì eh sì martedì Pisa salernitana in casa sarà anche quella grandissima partita perché la salernitana comunque è una bella squadra gioca bene e poi dopo riscenderemo in campo venerdì a Monza 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 questo è un bel filotto di partite anche per il Pisa questo è un bel filotto di partite e da qui da queste partite a parte tutte in serie B sono fondamentali ma queste partite dico che veramente Pisa può si riesce a fare il miracolo di Monza vincere in casa con la salernitana che poi suppongo poi le partite te le devi giocare e poi dopo penso ci sia la spalla il cittadella e tutti via dicendo le più le più grandi poi avvenire il derby con l'Empoli e ce ne saranno di partite molto fondamentali che secondo me sono le partite dove si vedrà sì un bel forse un vero Pisa sempre dipende da quel che fai dipende da quel che fai poi però arriveranno anche gli sconti diretti per giocarti la salvezza e lì allora lì sì che si dovrà vedere il vero Pisa già questo era uno scontro già questo con la Cremonese a prescindere da uno sconto salvezza perché siamo mi sembra un punto sopra siamo a un punto sopra alla Cremonese non è che siamo sto andando subito a vedervi ma penso proprio di sì no cazzo un punto sopra 23 4 punti sopra la Cremonese ti sei giocato questo scontro ma sei sempre a 4 punti però non sono tanti 4 punti perché in questa serie B abbiamo visto e se ne è viste e se ne è viste tante intanto vi aggiorno un attimo Empoli 1-0 sul Monza è iniziata da poco la partita GG per il Monza Empoli quest'anno ragazzi si pia la serie a diretta ammazzerà il campionato come il Benevento l'anno scorso e che dire ragazzi io non sono potuto andare in live perché ho fatto tardi al lavoro e tutte queste cose qua e niente però il post partita ve l'ho offerto e come ogni volta ve lo metto qui nel canale mi raccomando voi commentate condividete mettete like invitate amici parenti pronipoti zii nonne fate quel cazzo che vi pare invitate chi vi pare basta che fate condividere e spolliciare alle persone ragazzi noi ci vediamo allora martedì per la partita sia del Pisa contro la Salernitana che poi la sera sempre la sera di martedì ci sarà Inter Juventus Inter e ritorno nella semifrenale di Coppa Italia e ci vedremo anche quelle live quindi ci vediamo martedì ragazzi ciao a tutti e al vostro bomberone